Povera Paolina Bonaparte in Borghese, la sorella di Napoleone. Un turista austriaco, le mozza l'alluce e altre due dita del pieve solo per farsi un selfie. Quanto successo alla gipsoteca canoviana di Possegno in provincia di Treviso evidenzia la fragilità delle opere d'arte al cospetto di visitatori perlomeno sbadati. Fuggito alla chetichella e filmati il circuito chiuso, hanno esposto il cinquantenne turista austriaco ad una figuraccia mondiale. I carabinieri di Pieve del Grappa hanno stabilito che quella persona ripresa faceva parte di un gruppo di turisti austriaci che aveva prenotato la visita alla collezione di gessi dello scultore Antonio Canova. Costituitosi via email e confessando le proprie generalità, il turista ha promesso di voler risarcire interamente il costo del restauro dell'opera, ma questo non gli eviterà comunque una denuncia. Speriamo quantomeno che al prossimo selfie artistico stia decisamente più attento.